Ti servono crediti a prezzi bassissimi? Contatta Francesco Salamone con il link in descrizione e con il codice FUSE avrai subito un 5% di sconto! Bene ragazzi carichi come non mai da Fuse Gamer oggi ragazzi siamo con il quarto episodio del ruolo per squadra ragazzi nello scorso episodio come sapete tutti allora vediamo qui non ci siamo andati molto bene perché abbiamo fatto due sconfitte e una vittoria In questo episodio dovremo fare bottino pieno fare ben 9 punti su 3 partite ne avete consigliati in molti la liga brasiliana quindi oggi andremo a fare proprio quella liga Andiamo ragazzi andiamo chiudiamo gli occhi e andiamo! Joanville Mamma mia No No Partito di merda No Liberia Ma dai ma dai come si parte si parte malissimo ragazzi Terzino destro Vai Gremio Gremio Ebbene Galhardo Galhardo bene 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 Allora i difensori Ehm Chi si può uscire? Chi sa chi ci uscirà? Olè Joanville ancora Non so se mi è già uscito Boh vabbè Andiamo qui Io direi di scegliere Guttie Ehm si c'è questo Andiamo con l'altro difensore centrale Vai 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 Veloce Veloce Ponte Preta Non ha un difensore centrale Bene andiamo con un'altra squadra Il Gremio di nuovo Vediamo Bene il Gremio ha almeno un oro Scegliamo l'oro Che dite? Scegliamo l'oro Terzino sinistro della squadra Dai per favore Santos Santos Oddio Oddio Gremio Gremio Con 88 di velocità Mamma mia Questo si che sarà Uno dei colpi più belli della nostra carriera Adesso Cicci Cicci Dai Cicci per favore Cicci Palmeiras Palmeiras Attenzione Un oro Un oro Ci accontentiamo di Xavier Va bene vai Andiamo con l'altro centro La pista centrale San Paolo San Paolo Ten A Wesley Che è abbastanza veloce Direi di comprare lui Allora C o C della squadra Vai Palmeiras Dai qualcuno buono Ancora Xavier O Robinho Vai vai Scegliamo Robinho vai Allora ragazzi adesso andiamo con la D Vai Cruzeiro Non esiste Andiamo avanti San Paolo Non esiste Ma che cazzo è Va bene Andiamo vai Internazionale Non esiste Ragazzi ma non esiste nessuno in questa liga Chi esce Oddio Barbio della squadra Chi era Caccia poche onze Faceva tutto al volo Incredibile 91 di velocità Adesso a essere della squadra Vai 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 Qualsiasi Allora ragazzi Non c'è mai uscito qualsiasi Quindi lo devo scegliere io E scegliamo Bastos Allora ragazzi adesso andiamo con la TT ATT Fluminense Fred Scegliamo Fred E dai ragazzi Scegliamo Total Fred E ragazzi Ecco la squadra La nostra squadra brasiliana Addirittura sono tutti brasiliani Non pensavo fossero tutti brasiliani Nella liga brasiliana È incredibile Quindi in avanti ragazzi Abbiamo l'attaccante più forte d'Europa Anzi del mondo Total Fred Con lui potremmo fare davvero molti gol E potremmo andare in divisione sei Anzi scusate in divisione sette Ragazzi io direi di partire Con la prima partita I Hoji Eccolo Oh mio dio Mamma mia Non è possibile Cioè in divisione otto con queste squadre Non si possono proprio vedere Mamma mia Chi chi Come lo devo chiamare Non lo so Tiene fare per Michael Bastos Bastos La mette in mezzo Attenzione di testa Godin Sulla linea addirittura Sì chigno Vai così Vai Dai ragazzi Wesley Per Total Fred Total Fred Total Fred Total Fred Total Fred Proprio lui Proprio lui Lui lo sbaglia Lui lo sbaglia Total Fred Unico al mondo È lui È Total Fred Direte la compravendita Attenzione a Jackson Martínez Jackson Martínez Con un rimpalco Mannaggia Mannaggia Jackson Che culo di merda Che culo di merda Bastos Ancora lui Bastos Centralmente Vai 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 Attenzione Robinho Robinho 2-1 2-1 Per i brasiliani Mamma mia Che culo di Robinho Quello fa su uno però Anche se questo è migliore Di Robinho normale Vabbè Robinho Per Bastos 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 Michel Bastos Acquisto eccezionale Eccezionale Proprio lui Michel Bastos Il ritorno Che da un sacco di tempo Che lui non si faceva vedere È 3-1 per noi Wesley Il pallone Mamma mia Che pallone per Robinho Robinho 4-1 Che palla di Non mi ricordo il nome Vabbè però 4-1 per noi Grandissimi Gol Mamma mia Stavo cantando Il solito fuse Il solito fuse Sempre distratto Attenzione Jackson Martinez Martinez Stanno avantesimo E tiro Va bene Ci sta Ci sta 3-4 Finisce qui 4-3 Sofferta fino alla fine Però la portiamo a casa E questo è l'importante Siamo ad un terzo Dal nostro obiettivo di oggi Adesso andiamo sotto Con la seconda partita Sessa Total Fred Total Fred Total Fred Total Fred Ma sono TOTAL FRED Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Sei un cazzo di mostro Sei E lui è Total Fred Il più grande youtuber Di tutti i tempi Mamma mia Signori Mamma mia E' un cazzo di mostro Ancora su calcio di punizione Cioè su calcio d'anno No su calcio di punizione Siamo dei polli Siamo dei polli Barbio Vai Barbio 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 Oh Calcio di rigore E' il secondo dove chi lo batte Il mitico Total Fred Mi alzo Per Fred Se sbagli Total Total Fred Ancora lui Ancora lui Mamma mia Ancora lui a segno Oggi una doppietta E siamo solo a 20 minuti di gioco Barbio 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 Mamma mia Che parola Ha fatto per him Che parola Forza Fred Da lì Forza Fred Da lì Forza Fred Da lì Forza Fred Forza Fred Forza Fred Ah lì Vai Xavi E' con il destro Valo E poi la mente E poi la mente Chi è ancora lui Ancora lui Ancora lui Fred Total Fred Mamma mia Che giocatore Che giocatore Mamma mia Che giocatore Ragazzi Che giocatore Fred 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 Troppo 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 C'è Incredibile Ha una Forza Della Natura Ma Incredibile Iscrivetevi Puro al suo Canale Date a Fred Ve lo lascio In descrizione Attenzione Attenzione Qui con barbio Nostra Michel Bastos Michel Bastos Michel Bastos Michel Bastos Con sinistra Val adesso Mamma mia Vai Robigno Per Fred 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 Vai così Fred Oh mio dio Fred 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 Quanto sei forte Quanto sei forte Total Fred Mamma mia Non ho più parole Ragazzi C'è È Indescrivibile È troppo Forte Mossa Fred Attenzione Michel Bastos Michel Bastos Michel Bastos 2-0 Per i Brandigani Il balletto Brasiliano Di Michel Bastos 2-0 Per noi Avanti Fred 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 Mamma mia Che Fred Ragazzi Io non so più Che dire C'è È un mostro È un cazzo Di mostro Ragazzi È un cazzo Di mostro Un cazzo Di mostro Veramente È davvero Fortissimo Non è buggato Non lo so Quindi Farò nel mezzo Fred Fred Tripletta Per lui Total Fred Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Madre Via che Golato Lo youtuber Buggato Lo chiamavano Oh Terra Calcio di rigore Lo batterà ancora lui Total Fred Ed è pure rosso Non ho voluto farlo battere Ragazzi L'avversario Perché ha quitato Quindi ragazzi Facciamo 3 vittorie Su 3 Oggi Con Total Fred Ragazzi Ringrazio Total Fred Perché davvero È stato eccezionale Quest'oggi E quindi ragazzi Abbiamo raggiunto Finalmente La divisione 7 Lasciate 300 Mi piace Solo per Total Fred Se volete acquistare Crediti Contattate Francesco Salamone Vi mettete il link In descrizione E usate il codice EFUSE Per il 5% Di sconto Considerate qui sotto Con un commento Che liga usare Quindi lasciate un bel Mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Noi ci becchiamo Nel prossimo video Bella ragazzi Total Fred No questa volta Te ne ho paio in mano Dai 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 Per favore Per favore Per favore